Ministro, il tema di admissione, abbiamo capito che il ministro ha visitato alcune istanze, la ATSA, la RUBA Timeshare Association, ha visitato la Camera di Commercio e non lo ha divulgato, lo ha introduzito in un processo nuovo di parte di admissione e di expulsione. No, non lo ha introduzito in un processo nuovo, ma lo ha introduzito in febriare, perché in realtà è l'advento di effetto, ma è un'advento di attenzione, un'advento di attenzione nuova, è stato il Handbook del Latte nel 2023, con la mia proposta di approvare il governo, ma non è un'advento, è un'advento di appoggio del governo per l'implementazione, e mi proposta che sia in full implementazione a livello di DIMAS e DPL, e mi non è un'advento, e per me è un'advento positivo. cardinalmente a cambio del Handbook del Latte, di anteriore, questo nuovo, come mi sa? Mi ti ha donato un esempio. Anteriormente, per me permesso, mi stava guardando l'externo. Mi ha dato una politica di integrazione nuova, e se mi ha guardato la RUBA. Algo che ha detto di lei, mi ha dato, se mi noterà, è stato il 2018, per me permesso, non è un'advento, è stato l'advento, è stato l'advento di implementazione, la RUBA è stata in full implementazione, e se non c'è un pari o altro, di esempio, di un'advento di un'advento di un'advento, e però, se non si senti a fare un'advento di un'advento. e la 30 in vigore februari, effettivamente marzo, questa è la versione finale. Cosa potrei riparare? Epa, c'è qualcosa che potrei riparare nel cammino che non è mai buono, potrei, dante Dio, un manejo, potrei cambiare più facilmente con un manejo che ti requerì, cambio di lei, no? Un manejo, e la maniera di manejo nuovo con l'Ostin, mi piace ora evaluare, cada 3, 6 luni, per cambiare nel cammino, non è un lavoro in progress, con la cammino non è più migliore. E' importante, per il handbook, il manejo, è un cammino, un cammino con un valore e il rispetto alla dignità umana, nel trattamento con tutti i persone che vivono e vivono, se è legale, come permesso, non è rinnovato, senza nessun problema, senza nessun tragino, senza che un gente abbia un mese o un mese o un mese o un mese, no, automaticamente di full transparencia, e poi, se fosse una lingla, sono fatta nel politica di integrazione, ho devono con un compagnio di firma Paolo, ho sortentato e Muse感じato, per constarti da ci Archessore di Vesera e non lo farei, allora ora serve una possibilità per rendire al mercato straccionale. Non è una raila, Grazie a tutti. Grazie a tutti.